Nel 444esimo giorno di guerra l'esercito ucraino ha guadagnato terreno alla periferia di Bakhmut. Secondo il comandante della terza brigata d'assalto, che ha diffuso questo video di un attacco ad una posizione russa, le truppe ucraine sono avanzate di due chilometri in una settimana, sebbene non vi siano prove evidenti di una controffensiva ucraina. Nel frattempo è stata una notte di bombardamenti su parte dell'Ucraina meridionale, da Odessa a Kharkiv a Mikolaev, dove si registrano tre vittime. Con il drone si nota la devastazione di Marinka, piccola città nella regione di Donetsk. Kiev afferma che la Russia continua a concentrare i suoi sforzi bellici nell'est industriale dell'Ucraina per mettere ulteriormente in ginocchio il paese. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, gli occupanti sono già preparati mentalmente alla sconfitta. Oggi Zelensky sarà a Roma per incontrare il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e Papa Francesco. Grazie. Grazie. Grazie.